Ciao ragazze, benvenute, ben ritrovate. Oggi spacchettamento del primo ordine di campagna C7. Un ordine bello consistente, anche se molti di voi hanno approfittato della promozione dello sconto 30 e hanno fatto venerdì, sabato e domenica, gli ordini dal mio store online e hanno usufruito di queste promozioni, però anche a me avete ordinato tante cose. Cominciamo questa volta dalla cura del corpo. Il bagno schiuma, anche loro in offerta, questo alla limonata vi piace, continuate a ordinarlo come questo al gelsomino e uno nuovo, questo è della Senses, quindi più in gel, è da uomo, nel senso che può essere usato sia per la doccia ma anche come shampoo. E poi avete ordinato i saponi per le mani, perché oltre alla mascherina sapete che è sempre importantissimo lavare le mani e usare un igienizzante. E siccome siete brave e l'igienizzante lo usate, usate sempre il sapone, avete anche ordinato le creme per le mani, anche queste sono in offerta e voi ne avete furbescamente approfittato, bravissime. E poi cosa avete fatto anche? Ebbè avete ordinato a man bassa questi ottimi deodoranti profumati, anche loro sono in offerta 1,250, due deodoranti 3,90, quindi ne avete ordinati a coppie di due. Bravissimi! E poi, sempre rimanendo nella cura del corpo, proseguiamo con la cura dei capelli. Di nuovo lo shampoo dedicato a chi ha i capelli tinti di biondo, perché elimina quelle striature, quel giallo opaco che a volte si verifica con la tinta bionda. Lo shampoo all'olio di Ergan, che è molto buono, ormai è una cosa che vi piace perché rinforza i capelli, li nutre. E in abbinata il siero all'olio di Ergan, che di nuovo li nutre, li fortifica e li rende molto brillanti. E questa maschera che è proprio contro la rottura dei capelli, quindi ve li rinforza in maniera veramente rapida, bastano poche applicazioni, soprattutto se poi abbinate allo shampoo, ve li rinforza. E poi questo, per chi ha i capelli lunghi, oppure per chi ha dei bambini con i capelli lunghi, è indistricante per i nodi all'albicocca. Veramente dei prodotti molto validi, infatti li acquistate e poi li riassortite. Termino il discorso mani con questi prodotti per le unghie. Questo è un rinforzante che contiene anche particelle di oro, due top coat, tutti e due brillanti, e queste paillettes da aggiungere allo smalto. Ecco, diciamo che questa è la panoramica per quanto riguarda il settore bodycare, quindi dalla pulizia alla cura del corpo e dei capelli. E veniamo adesso alla cura del viso. Ecco due prodotti della linea Nutra Effect. Questa è un'acqua micellare oleosa, bifasica, per struccare i prodotti waterproof, come ad esempio quelli della linea Power Stay. E questo è uno scrub micellare molto leggero, molto delicato, adatto a tutte le pelli. Poi nella linea Anew abbiamo Notte e Giorno, la crema Ultimate, veramente ottima, e la linea dedicata alla vitamina C, quindi abbiamo il siero alla vitamina C, le capsule alla vitamina C, il tonico e l'esfoliante a caldo alla vitamina C, che vi ho presentato già in altre occasioni. Comunque vi metto il link se volete rivedervi il video. Questa è una maschera della linea Planet Spa, e poi due prodotti che qui sono in formato prova della linea Pollution Protect, sempre di Anew. C'è una maschera al caulino antiossidante da tenere in posa 15 minuti e una crema antiossidante da giorno, sempre con protezione 50, quindi un'ottima protezione per chi ha la pelle delicata. Ecco qui una breve panoramica. Bene, abbiamo parlato di struccanti? E allora trucchiamoci. Un bellissimo fondotinta della linea Von True e il correttore. Un mascara, non mascara, perché è trasparente, serve per rendere le ciglia più lucide, più forte, più forti, quindi si può usare sia sotto il mascara sia di notte, poi le matite contorno occhi, la matita Von True, la Glimmer Stick, ma anche la Power Stay, e questa invece per le sopracciglia con lo spazzolino. E poi i rossetti, sia i rossetti della Color Trend, sia i rossetti della Power Stay che sono in offerta e quindi ne avete approfittato per acquistarne due. E come sapete i rossetti Power Stay non lasciano il segno, sono indelebili, durano tutto il giorno e quindi si possono anche mettere sotto la mascherina. e poi questa che è la novità di questo catalogo e cioè il lucida labbra a specchio. Questo sembra colorato, in effetti è color neutro e quindi può essere messo su tutti i colori ed è bello anche metterlo su un rossetto matt per farlo diventare un luminoso lucente a specchio. Tanto per giocare un pochino, quindi lo stesso rossetto può essere usato nella sua consistenza originale, cioè matte, ma può diventare un luminoso effetto specchio grazie a questo lucida labbra. Bene, proseguiamo la carrellata sui prodotti ordinati, qui siamo nella sezione profumi. Questa è una bellissima offerta sul Today perché tre confezioni di Today ha 39 euro, mentre il Today costa 30 euro quando è in offerta 20 euro, quindi questa è veramente una super offerta. E poi anche la crema corpo. Ne avete ordinate, è di crema corpo. Questo è un altro ottimo profumo con una consistenza leggermente gelatinosa, quindi basta una goccia messa sul collo o sotto i lobi delle orecchie, dura, persiste il profumo per tutto il giorno. Avete pensato anche ai bambini con Frozen, sia lo decolon, sia lo spray da tenere in borsetta. Poi un altro profumo, le Secret. Qui c'è della linea Maxime, la crema dopo barba da uomo e poi le fragranze floreali per il corpo, prettamente estive perché sono leggere, non sono impegnative come può essere un profumo, si possono spruzzare sul corpo, sui capelli, anche sulla mascherina, così almeno abbiamo qualcosa di più profumato, più gradevole, a contatto con il naso, con la bocca. E poi in ultimo questa bella crema per il corpo della Avon Care, vedete, all'aloe e al cetrion, quindi idratante, rinfrescante e lenitiva. Lì ci sono delle cose che usciranno nel prossimo catalogo, ve ne parlo dopo. Voglio invece finire la carrellata con questo costume, due pezzi, si possono scegliere anche taglie diverse per il sopra e il sotto. E quello che a me piace tantissimo, i diffusori e la candela col motivo dei ghepardi, me l'ho già fatta vedere un sacco di volte. Mi piacciono e si vede. E adesso vi faccio vedere una delle novità che uscirà col prossimo catalogo. Sono dei patch per interventi dell'ultimo minuto, quando arriva il brufolo, proprio prima di uscire, dobbiamo ricorrere ai ripari. Sono 12 patch con acido salicilico e estratti di erbe. E poi questa, questa è una maschera che uscirà appunto nel prossimo catalogo, una maschera nera purificante, idratante e antiossidante. Contiene anche estratti di alghe. È una maschera doppia, vedete, da una parte c'è il liquido, dall'altra parte invece c'è la sostanza in polvere, quindi si miscelano prima e poi si applica, si tiene quei 15 minuti e si risciacqua, si toglie. Quindi è una maschera che aiuta a mantenere la pelle idratata, oltre a purificarla e a fare da barriera antiossidante contro gli agenti esterni. Bene, possiamo fare una carrellata così di riepilogo. Questo è il mio primo ordine di campagna C7. Vi aspetto per il prossimo o per quello della campagna C9. Vedremo se Avon farà altre offerte di sconto. Voi seguitemi sempre perché anche questa volta io avevo messo l'avviso che c'era lo sconto non solo 30, ma è durato 5 giorni, 30, 28, 26, 24, 22, l'ultimo giorno 20%. Quindi io li pubblico sia sulla mia pagina sia qui, quindi state attente perché queste cose io ve le comunico sempre e mi fa piacere darvi la possibilità di risparmiare. Ovviamente solo per gli ordini che vengono effettuati sul MyAvonStore con consegna in tutta Italia, quindi vi arriva a casa o nella località dove siete in vacanza, oppure se volete fare un regalo a qualche amica, a qualche parente che abita lontano da voi, potete approfittare di queste spedizioni. Bene, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do l'appuntamento alla prossima clip. Ciao ciao!